buongiorno anche oggi siamo pronti per affrontare nel nostro salotto tanti argomenti interessanti parleremo di cure odontoiatriche a basso costo ma sono davvero sicure e poi parleremo di un altro argomento molto interessante cioè il diabete 2 quello che comunemente viene definito diabete alimentare seguiteci perché abbiamo tantissimi consigli per voi venite con siamo pronti per entrare nel vivo di questa nuova interessante puntata di belli dentro belli fuori come sempre il mio più caloroso buongiorno a margherita e gianluca ben trovati e vi presento subito il primo ospite di oggi che il professor maurizio ciruglio don toiatra impiantologo dell'università di chieti buongiorno ma subitissimo la parola margherita per la notizia che così ci ha dato un po lo spunto per la discussione di oggi sì mi ha molto colpito in questo ultimo periodo la serie di servizi e di inchieste che sono uscite sulla cosiddetta odontoiatria a basso costo che succede che grosse società stanno creando delle catene di studi hanno cominciato prima sul marciapiede quelle con le con l'entrata dire con le vetrine proprio le vetrine richiami adesso stanno cercando di conquistare i piccoli studi in crisi per creare delle grosse catene e la preoccupazione che così la qualità venga abbassata oltre al prezzo si abbassi la qualità c'è molta richiesta della dontoiatria lo costa perché e poi ce lo dirà il professor maurizio cirulli in effetti i costi non sono a portata di mano tanti che molti devono rinunciare alle cure e poi c'è un altro fenomeno il fenomeno delle cure all'estero nei paesi croazia slovenia albania si conosco molte persone che sono tante tante persone ci sono delle agenzie di viaggi che propongono l'utile col direttevole però la qualità ci racconterà credo che diverse persone diversi pazienti tornano con impianti dentari con protesi che non adeguati cominciamo da dei numeri professore ci sono cinque milioni di italiani che dovrebbero andare dal dentista ma non ci vanno purtroppo il numero penso sia superiore superiore l'istat dice 5 milioni ma è probabile che che sia in crescita negli ultimi anni centomila persone addirittura sono andate all'estero di cui il 40 per cento in albania come diceva margherita alla ricerca di cure dentali meno costose sì è perfettamente legittimo che una persona soprattutto in questi tempi di crisi possa rivolgersi a dove i costi sembrano inferiori ed è questa legittimità fa sì che il paziente prenda questi torpedoni questi questi autobus faccia questi pellegrinaggi della speranza però non è sempre come il paziente crede ci sono anche all'estero delle strutture sanitarie delle cliniche dentali che hanno gli stessi costi che abbiamo noi perché utilizzano prodotti materiali hanno dei protocolli che sono simili ai nostri e quindi prezzi diciamo si parla di un risparmio attorno ai mille euro dopo aver fatto viaggi eccetera e avendo avuto anche il problema di questi rapporti frettolosi il fatto di non avere la possibilità di fare controlli dopo che sono fondamentali ecco proprio questo volevo volevo chiedere questo turismo diciamo così dentale gente che poi dopo magari fa anche un po di vacanze però delle volte per fare delle cure in italia quando uno va dal dentista non bastano pochi giorni c'è bisogno di tanto tempo a volte anche dei mesi dei controlli quelli che si chiamano quello quello che che accade dopo quindi com'è possibile poter insomma fare una cosa così in fretta e furia ci sono alcune alcune pratiche che proprio necessitano di tempo si può fare dentista mordi e fuggi no diciamo la biologia la nostra biologia ha dei tempi che sono che bisogna rispettare assolutamente un osso si ossifica in 30 giorni un impianto dovrebbe ossificarsi in una periodo di tempo equivalente sicuramente un po di più anche 60 anche 60 anche sì anche 90 però si varia molto da individuo individuo varia molto da operatore operatore e da caso a caso per esempio ci sono dei casi totali in cui si mettono 7 8 impianti e vengono solidarizzati immediatamente che possono essere caricati subito il carico immediato il paziente esce il giorno dopo la sera già con i suoi denti provvisori ci vogliono dei requisiti però certo certo sono 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 interventi che non sono alla portata di tutte le strutture eccetera sono interventi che richiedono un background da parte degli operatori c'è una preparazione una storia insomma è bene che il destista sia una figura di riferimento costante quindi di averlo vicino sotto casa di non cambiarlo una persona da chiamare in caso di necessità sì allora proprio sotto casa non direi io ho paziente io sono tante offerte anche in italia low cost bravi ecco allora allora in italia ci sono queste anche qui queste offerte low cost che io chiamerei certe volte slow cost cioè costi diluiti più che low cost e perché comunque in italia c'è un meccanismo di proposte per cui ti dicono la carie costa tot l'impianto costa tot e poi c'è un finanziamento che ti permette di pagare in tempi in tempi comodi lunghi eccetera però non sempre non sempre questo questo tipo di odontoiatria può essere adatto a tutti in certe situazioni sì in certe no comunque l'odontoiatria italiana anche quella che opera all'interno dei centri cosiddetti low cost è garantita dal fatto che il dentista italiano è iscritto all'ordine degli odontoiatri anche queste cliniche sono soggette ai controlli dei carabinieri del nas del noe oppure del della asl e quindi hanno delle delle normative che devono rispettare all'estero tutto questo non è garantito diversa è all'estero io so che in alcuni studi all'estero si fanno anestesie totali totali in assoluta assenza di un di una terapia intensiva per dire quindi si ferma il respiro si rischia di morire è un disastro che non c'è possibilità di intervenire per cui bisogna stare molto molto attenti le lusinghe del low cost quelle sbandierate quelle quelle veicolate su questi siti del web ecco comunque in ogni caso è il medico che fa la differenza e il dentista che fa la differenza non è la struttura non è il tipo di di particolare di impianto se si fa l'implantologia o il tipo particolare si può trovare un buon dentista un buon professionista anche nelle cosiddette catene low cost ma sì se uno è fortunato si trovano dei bravissimi medici come si riconosce un bravo professionista ci dia qualche così qualche proprio consiglio pratico generalmente bisogna cercare il suo curriculum e se non è presente in un se non ha un sito se per esempio prima cosa vedere che si è scritto all'albo degli odontoiatri e questo sono pubblici è sempre accessibile sono pubblici eccetera poi guardare che questo medico abbia se fa per esempio non so parodontologia da quanti anni fa parodontologia se fa implantologia ma questo come si fa a sapere da quanti anni lo si chiede io sinceramente consiglio no 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 chiedere direttamente parlare con il medico dico caro 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 dottore lei quanti ne ha fatti di questi interventi cioè sono il secondo la saluto la ringrazio alla prossima proviamo con solo il duemillesimo beh va bene o anche il duecentesimo va bene va bene quindi l'esperienza l'esperienza la catistica naturalmente racconta ne è mai capitato di dover riparare qualche danno fatto all'estero in strutture non adeguate purtroppo ma che vedi impianti protesi scittizie protesi di bassa qualità ma guardi io ho delle situazioni in cui pazienti sono sono tornati in cui ho dovuto distruggere tutto quello che era stato fatto perché gli impianti si sono fratturati sono state sinusiti ascessi eccetera e ho dovuto bonificare non cosa non semplice e rifare professore le volevo fare una domanda gli esami ci sono degli esami che vanno fatti non si può pensare di andare sottoporsi ad un intervento così senza approfondire certe questioni o sbaglio si dovrebbe essere così almeno un attack forse no quello senz'altro io penso che ormai non è che sempre si non sempre ecco diciamo che ormai un attack con bim dovrebbero un implantologo dovrebbe averlo in studio anche perché qualsiasi cosa ti capiti tu devi vedere verificato attenzione devi vederla e la risolvi subito nel caso e lì sta l'esperienza del professionista e poi che altri tipi di esami ma guardi sono esami strumentali che si va dalla ortopantomografia che è la panoramica di tutta la bocca l'attack la bravura del professionista dipende anche dalla dalla preparazione dell'intervento non è soltanto l'intervento vero e proprio ma quanto si 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 lo prepara si si bisogna preparare un intervento virtuale prima no su su tutto ciò che abbiamo acquisito dalle nostre strumentazioni si vede bene dove mettere le mani attenzione che se si toccano certe strutture si rischia la vita un intervento un po più semplice che arrivano le offerte ma sul telefonino lo sbiancamento di denti lei lo consiglia o no ma io penso di sì penso di sì se non è se non sono prezzi civetta ormai si usano questi per ossidi di carbamide eccetera bisogna vedere che non siano prodotti che sono per ossidi di carbamide che cos'è però si è come l'acqua ossigenata che usano super per intendersi molto banalizzando l'acqua ossigenata con i volumi molto molto meno concentrata di quelle che usano le parrucchiere quindi è corretto che venga utilizzata per lo sbiancamento sì sì adesso questi però si sono al 16 per cento per lo per lo sbiancamento per il bletching in studio poi c'è quello domiciliare che è inferiore giustamente si parlava prima con la signora che ci sono sensibilità dopo lo sbiancamento ecco non bisogna mai sottovalutare la sensibilità del paziente spiegare sempre tutto è importante parlare con il dentista e allora questi sono i cinque consigli così che dopo questa chiacchierata possiamo mettere in fila uno dopo l'altro e sono prima di tutto instaurare un rapporto di fiducia con il proprio medico quindi parlare raccontare e farsi dire di fidare da offerte a prezzi stracciati perché come abbiamo detto i materiali e la professionalità comunque hanno un costo sottoporsi ad accertamenti medici per attestare appunto l'idoneità all'intervento perché non tutti gli interventi sono per tutti e le terapie più costose non sempre sono quelle adeguate al caso quindi evitare di farsi fare delle cose magari che non sono che non sono utili e poi prima di firmare un finanziamento visto che abbiamo detto con il professore che alcune di queste catene propongono dei pagamenti dilazionati controllare la solidità della struttura la professionalità degli operatori insomma stare un po con gli occhi aperti allora grazie mille professore grazie per i suoi consigli adesso andiamo a incontrare una bellissima ragazza e georgia palmas che ci racconta il suo rapporto con la salute il mio rapporto con la salute è un rapporto diciamo importante ma perché secondo me la salute è importante poi io parlo soprattutto da mamma sono fermamente convinta che diciamo la salvaguardia della nostra salute passi dall'alimentazione e da una buona scelta di esercizio fisico che se insomma non si è degli sportivi professionisti può essere un esercizio fisico adatto alle proprie caratteristiche adatto alla propria personalità non uso tante medicine non ho tantissime medicine nel mio armadietto sono quelle magari principali di uso comune le utilizzo veramente se sto male o sotto indicazione medica quindi non non sono una dottoressa fai da te non adoro l'uso e tanto meno l'abuso delle medicine mi piace sentirmi bella dentro nel senso che mi piace star bene con me stessa l'essere belli fuori l'essere belli fuori un qualcosa che non possiamo secondo me giudicare noi è un qualcosa che se piaceva va bene alle persone che ci guardano speriamo però di essere belle dentro ma magari anche fuori per le persone che ci stanno a cuore questo basta però io preferisco sentirmi bella dentro beh è innegabile che giorgia sia bellissima anche fuori noi adesso ci salutiamo per un piccolissimo spazio pubblicitario ma torneremo tra poco con un argomento molto interessante parleremo di diabete diabete 2 a ben tornati a belli dentro belli fuori il salotto del benessere di la 7 come vi avevo anticipato prima della pubblicità stiamo per parlare di diabete 2 vi presento subito il dottor mauro ragonese buongiorno dottore di acismo centri diabetologici con il quale approfondiremo questo argomento ma come sempre prima dei numeri professore dottore anzi 3 milioni di persone in italia soffrono di diabete 2 che una malattia molto subdola di cui si parla molto ma che non si conosce proprio a fondo a partire dal nome perché è comunemente detta diabete alimentare non è corretta come definizione non è una definizione corretta partiamo un attimo dai numeri che è un dato importante come diceva 3 milioni di persone con diabete circa il 6 per cento della popolazione è affetta da diabete dobbiamo tener conto che c'è un'altra fetta corrispondente circa una persona ogni due tre diabetici che conosciamo che non sa di avere il diabete ma ce l'ha in corso quindi c'è un altro grossa fetta di popolazione affetta dalla mattia senza saperlo e quindi va incontro a dei problemi quindi essendo diabetici non si sa ci sono dei problemi che magari si potrebbero risolvere prima se si scoprisse di essere di assolutamente sì spesso può capitare che la diagnosi di diabete avvenga dopo la comparsa di una complicanza in ambito cardiologico si manifesta la complicanza e poi si viene a sapere per quello che lo definivo subdola perché delle volte cioè finché non c'è una complicanza vera e propria perché non alimentare visto che tutti così comunemente lo chiamano in questo modo è un nome confondente perché da un lato di diabete da errati stili di vita perché alimentazione e sedentarietà a nessuno viene in mente di chiamarlo diabete pigro però diabete sedentario il l'aspetto fondamentale qual è è che in questo modo da un lato la persona con diabete attribuisce al concetto di alimentare un valore un po più basso di quello che è la malattia come a dire l'alimentazione il momento in cui sto attento basta cambiare invece non è così mentre il nome corretto è diabete di tipo 2 meglio ancora diabete mellito di tipo 2 il nome distingue da quello 1 è per mancanza di insulina quasi genetica no sì sì assolutamente invece questo dipende dall'ambiente e da come ci comportiamo da quello che facciamo soprattutto dalla mancanza di esercizio fisico è vero margherita che c'è stato proprio uno studio recente tra l'altro italiano qui vicino casa del sant'andrea e hanno visto proprio che insegnando educando 300 pazienti con diabete insegnando gli esercizi che devono fare con personale formato sono riusciti a correggere la loro impostazione quotidiana delle giornate tanto che anche quando questa formazione si è conclusa loro hanno continuato a mantenersi in esercizio ecco dottore quando si dice attività fisica insufficiente ci ci spieghi meglio basta anche solo camminare di più toglierei il basta è una cosa importante camminare di più noi siamo animali fondamentalmente e dovremmo mangiare per quanto consumiamo per questo il concetto di diabete alimentare porta fuori strada siamo animali e dobbiamo muoverci in base a quanto ci muoviamo possiamo poi regolare la nostra alimentazione c'è il il gioco dei 10.000 passi giornalieri che è una buona regola 10.000 passi equivalgono a quanto movimento sono circa 8 chilometri all'incirca sono 8 chilometri a buon passo sono complessivamente un'ora e tre quarti però come abbiamo visto non basta scriverlo sul foglietto il medico deve diabetologo deve spiegare bene che cosa fare come farlo il diabetologo e in generale ancora di più il team diabetologico perché la cura di abete del diabete deve poggiare sull'azione di più professionisti l'infermiente dedicato il dietista il podologo perché va abbracciata nel senso più ampio del termine come prima regola deve consigliare la regolarità nel nell'applicare delle delle buone norme quindi possono non essere 10.000 passi al giorno l'importante è che tutti i giorni regolarmente ci sia dell'attività bisogna stimolare un po questa pigrizia lei prima diceva il diabete della pigrizia perché i pazienti diabetici che soffrono di diabete 2 sono un po pigri vanno stimolati vanno motivati e vanno motivati con obiettivi raggiungibili il stesso discorso che possiamo fare sul peso abbiamo abbandonato l'idea che una persona sale sulla bilancia e gli si fa l'operazione pesi 100 togli 20 il peso ideale 80 un obiettivo raggiungibile vale per l'attività fisica ma vale anche per il peso è quello per esempio di cercare di raggiungere un calo di peso del 4 5 per cento di quello che registra la bilancia è già 70 kg immagina 70 no 80 kg un uomo quanto deve calare basta 5 per 8 40 4 kg 4 kg è già in grado di dare un grosso supporto ma non soltanto al diabete vale per la pressione arteriosa vale per il colesterolo qualsiasi tipo di patologia correlata Gianluca l'alimentazione fondamentale l'abbiamo detto si può cercare di non rinunciare completamente ai piaceri della tavola quindi mantenere qualche sfizio anche quando si affetti il professore ha detto una cosa giusta prima stavamo parlando dietro le quinte questo diabete si dovrebbe chiamare diabete moto alimentare no? quindi le due cose vanno assieme quindi se vogliamo concederci qualche sfizio dobbiamo fare più movimento dobbiamo bruciarlo in qualche modo però quindi bisognerebbe tenere presente quali sono le cose che bisogna mangiare che sono cibo quindi la verdura la frutta magari meglio mangiarla intera e non berla perché ci sono anche le fibre e un po' di carne un po' di pesce se non si è vegani però poi bisogna anche muoversi se noi vogliamo concederci il dolcetto vogliamo meglio se fatto in casa magari in maniera più genuina vogliamo concederci la pasta e dobbiamo anche muoverci e quindi cercare di compensare le due cose non si può trovare la salvezza diciamo così tra virgolette soltanto nel cibo o soltanto nel movimento quindi diminuire l'entrata e aumentare le uscite e cercare di bilanciare le due cose proprio in poche parole ma l'indice glicemico Gianluca se ne sente parlare tanto quando si parla di diabete quindi di zuccheri che cos'è come insomma beh io lo spiego in maniera molto semplice mi perdono il professore è la velocità con cui un carboidrato passa dal nostro stomaco nel sangue quindi più velocemente passa e più l'indice glicemico si alza quindi meno tempo avrà l'organismo per adoperare quel carboidrato e si creano dei picchi dei picchi di glicemia a quel punto lì l'organismo deve mettere insulina l'insulina fa uscire diciamo lo zucchero dal sangue lo porta nelle cellule se lo stanno adoperando nei muscoli oppure nei riservi di grassi purtroppo e però quando la glicemia sale velocemente nel sangue velocemente scende e ci torna fame e ricominciamo a mangiare giusto? possiamo fare un esempio così riusciamo a forse a spiegarci anche meglio per chi ci ascolta avete mai visto un tennista mangiare una mela? al fuori talico non avete mai visto mangiare una mela? o una pera? c'è anche che mangiava la banana mangia la banana per quale motivo? perché a parità di zucchero all'interno della frutta quelli che sono contenuti nella banana proprio per la composizione del frutto quando è maturo vengono assorbiti in un tempo rapidissimo che si rendono disponibili più rapidamente assolutamente nella persona con diabete ma è una regola che andrebbe bene un po' per tutti assolutamente per tutti è buona norma in un pasto non sommare troppi carboidrati o se si sommano che abbiano dei tempi di assorbimento o dei modi di cottura che ne favoriscono un assorbimento più lento faccio l'ultimo esempio così forse è ancora più chiaro noi possiamo prendere una patata non aggiungere nulla mangiarla cruda mangiarla lessa o dopo che l'abbiamo messa al forno la quantità di zuccheri contenuta è sempre la stessa però la glicemia si muoverà meno con la patata cruda un po' di più con la patata lessa e lo stesso vale per la pasta la pasta al dente assolutamente la cottura corrisponde a una predigestione noi è come se predigerissimo scegliere bene questo carboidrato anche il metodo di cottura per questo era correttissimo il suggerimento che dava prima della frutta intera rispetto al succo di frutta che può contenere le stesse calorie gli stessi zuccheri della frutta intera ma un tempo di assorbimento molto più rapido insomma alimentazione e movimento sono più importanti dei farmaci sono più di un farmaco a volte perché le aziende farmaceutiche stanno investendo tantissimo in farmaco non passa settimana in cui non veniamo sollecitati a scriverne però la curva la tendenza l'aumento delle persone con diabete aumenta come mai non si riesce a invertire questo trend è una bella domanda in 30 secondi perché il nostro sistema sanitario che è comunque uno dei sistemi sanitari migliori al mondo non investe adeguatamente in azioni che favoriscono l'educazione la motivazione quindi campagne promozionali continue ma anche nell'ambito delle strutture assistenziali è una voce che si fa difficoltà ad impiantare in pianta stabile come modo di assistenza ed è più facile andare sulla cura arrivando col farmaco piuttosto che cambiare uno stile di vita e adesso un consiglio per voi dottore uno studio ci riferisce che su 13.000 pazienti insomma si misurano poco la glicemia non la riferiscono al medico è stato fatto questo studio e sembra paradossale perché insomma è il primo modo per capire uno come sta misurarsi misurare la glicemia tra l'altro oggi ci sono dei metodi proprio semplici casalinghi assolutamente sì innanzitutto è una voce di spesa molto importante per il sistema sanitario 3 milioni di pazienti una striscietta al giorno una striscietta a un euro sono 3 milioni di euro che giornalmente vengono spesi ma potrebbe essere un'ottima spesa se diventasse il confronto sul dato che viene fuori dallo strumento domiciliare un momento di confronto con il team un momento in cui il paziente la persona con diabete prende coscienza delle proprie azioni che impatto hanno sulla glicemia dell'attività fisica anche del gelato preso nella gelateria più lontana camminando per andarci e per tornare si rende conto che il gelato non è un peccato non è un senso di colpa ma realizza che lo può fare deve diventare di più un momento di confronto tra la persona e i suoi familiari e il team e il team di cura dottore il prediabete esiste una parola scorretta se ne si sente dire a questa persona non è ancora diabete o ai prediabete e anche questa è una bella domanda cerco di rispondere in maniera non tecnica esistono degli stati in cui l'organismo non risponde bene agli zuccheri che arrivano tramite il mangiare non raggiunge ancora i livelli con cui si fa diagnosi di diabete ma ci sono degli stati intermedi che possono evolvere nel diabete non necessariamente tutti evolvono nel diabete sono fasi molto importanti perché comunque sono legati alla possibilità quindi esiste questa fase assolutamente sì esistono di più caratteristiche e che possono preludere lo sviluppo del diabete è una fase che se individuata può deve essere individuata è una fase in cui l'azione di diagnosi precoce di scoperta dell'alto rischio di sviluppo di diabete si parla del 40% della popolazione prediabetica ci sono dei modi per scoprirlo e poter riparare si fondamentalmente basta vedere la storia familiare della persona e già siamo in grado di avere un'idea del rischio che ha quella persona una glicemia a digiuno al mattino è in grado già di dirci se è inquadrato in quella situazione e poi eventualmente si possono fare dei test peraltro molto semplici diffusissimi che possono essere utilissimi per prevenire assolutamente sì volevo soltanto aggiungere visto che abbiamo nella prima parte parlato di odontoiatria che adesso sta prendendo sempre più piede e è ritenuto importante la salute dei denti ai fini della cura del diabete ma c'è una relazione sì c'è una relazione si è visto che denti poco sani possono essere causati dal diabete e viceversa possono esserne la spia allora il nostro vademecum i nostri cinque consigli prima di tutto parlare con il medico e chiarire tutti i dubbi poi punto numero due fare non meno di diecimila passi al giorno quindi fare movimento fare attività fisica tre tenere sotto controllo il peso abbiamo detto che basta un calo del 4% per migliorare sensibilmente lo stato della malattia e poi misurare regolarmente la glicemia e possibilmente comunicare i valori al medico in maniera da poter insieme al team prendere atto di quello che sta succedendo e poi come quinto consiglio darsi degli obiettivi realistici nel quotidiano posso dire attenzione a quello che mangiate però anche all'alimentazione fondamentale fondamentale allora grazie mille dottor Ragonese ma resti insieme a noi perché adesso è arrivato il momento del nostro vocabolario della salute e oggi siamo alla lettera F come fratture la frattura da fragilità è un evento che si manifesta in maniera spontanea o in seguito ad un evento minimo poco traumatico in soggetti affetti da osteoporosi l'osteoporosi è una patologia metabolica del tessuto skeletrico che rende il tessuto skeletrico meno resistente ai traumi e quindi più suscettibile appunto a fratturarsi l'osteoporosi si può diagnosticare mediante un esame MOC che ci permette di valutare la densità del tessuto skeletrico mentre la frattura da fragilità la possiamo diagnosticare mediante una radiografia per esempio della colonna vertebrale che ci permette di identificare le fratture appunto da fragilità delle vertebre nel momento in cui noi abbiamo purtroppo una frattura da fragilità vuol dire che l'osteoporosi è andata avanti sia indotto un danno relativamente irreversibile al tessuto skeletrico e quindi è un campanello d'allarme per iniziare subito una terapia farmacologica che permetta di ripristinare la resistenza del tessuto skeletrico e di far sì che non si manifestino ulteriori fratture da fragilità nel momento in cui la frattura da fragilità appunto è avvenuta dobbiamo intervenire con una terapia farmacologica adeguata è fondamentale l'instaurarsi di tale terapia farmacologica ma dobbiamo anche ricordarci che l'osteoporosi e quindi le fratture da fragilità possono essere prevenute mediante uno stile di vita corretto con un'alimentazione che sia adeguata per l'apporto di tutti i nutrienti fondamentali per il mantenimento del benessere dell'organismo e quindi anche del nostro scheletro una vita che sia attiva la sedentarietà è un fattore di rischio ulteriore così come fattore di rischio sono la familiarità chiaramente l'età del soggetto che è maggiore è l'età appunto è maggiore il rischio di fratturarsi e anche uno stile di vita che porta ad un incremento del fumo e quindi di stili non corretti e quindi cosa possiamo dire F come frattura da fragilità è fondamentale la prevenzione è importante la terapia farmacologica nel momento in cui si manifesti e F appunto come farmaco per poterla curare e ringraziamo la dottoressa Migliaccio vi ricordo che tutti i nostri consigli il nostro vocabolario della salute è consultabile quando volete sul sito di La7 io saluto e ringrazio il dottore Margherita Gianluca noi ci ritroviamo qui sabato prossimo con un'altra interessante puntata di Belli Dentro Belli Fuori buon sabato arrivederci con un'altra Grazie a tutti.